Sulla presenza di Tyreek penso che scioglieremo ogni dubbio soltanto domani, il campo dovrà dimostrare quanto realmente questo infortunio possa aggravare sul suo rendimento e soprattutto condizionarlo perché trattandosi di un giocatore che fa del dinamismo, l'atletismo, la sua caratteristica principale speriamo che questo sia un infortunio che oltre che non provocare danno non lo limiti. Come detto è stata una settimana un po' particolare, vissuta con un po' di apprezzione, con l'attenzione rivolta ad una gara con Napoli che prevede uno sforzo sotto il profilo tecnico, tattico e psicologico anche importante trovandosi in una soluzione di assoluta emergenza, quindi questo stato attuale ci costringe una volta di più, ancora di più, a fornire una prestazione di alto profilo. Serve sicuramente la continuità, quella che talvolta abbiamo smarrito nelle precedenti uscite anche a fronte di prestazioni convincenti, è successo anche a Bologna di fronte ai campioni d'Italia siamo stati spesso in grado di controllare il ritmo della partita ma non sufficientemente da pensare di controllarla fino alla fine e tenere contatto con i nostri avversari. È arrivato il momento di dimostrare sul campo che abbiamo la forza per poter conquistare le vittorie che sono alla nostra portata.